Buono compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo fare il riassunto della puntata 8x03 dell'ottava stagione di Game of Thrones, ma prima metto un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Allora ragazzi, questo terzo episodio di Game of Thrones 8 si apre riprendendo a piene mani l'estenuante attesa che ha chiuso gli sviluppi del secondo episodio, trasportandoci fin dal principio negli sguardi preoccupati e proiettati al futuro di tutti i personaggi che stanno preparandosi per quanto avverrà. L'ansia è così tagliente da riuscire a tagliare lo schermo in tanti piccoli pezzi. Abbiamo atteso 8 stagioni questo momento, sono due stagioni che la minaccia dei non morti è tangibile. C'era stata promessa la battaglia più grande che si sia mai vista nella storia del cinema e della televisione. Probabilmente non è stato così, anche perché i momenti della battaglia di Mina Stirit e del Fosso di Helm sono inarrivabili, ma vanno fatti i complimenti per come i registi hanno deciso di orchestrare l'episodio più atteso nella storia di Game of Thrones. Ha convinto soprattutto perché lo spettatore ha vissuto la stessa ansia di chi combatteva la battaglia. Siamo stati trascinati all'interno di questa, vivendola quasi in prima persona e tutto questo è stato frutto di un lavoro straordinario. Ogni frame di questi 82 minuti hanno trasudato epicità e ansia. Ci avevano promesso il terrore, abbiamo avuto davvero il terrore, visto che comunque sia tutti i personaggi principali sono stati ad un passo dalla morte. Game of Thrones però ci ha insegnato che niente accade per caso e ognuno ha la morte che si merita, spesso quando meno ce lo aspettiamo. Ma iniziamo subito il riassunto. Questa puntata inizia da Sam, poi passa a Tyrion, a Bran e nuovamente a Tyrion. Poi saliamo su, sulle mura di grande inverno e vediamo Davos e Sansa. Tutto è pronto, il silenzio è spettrale, carico di attesa. Jon e Daenerys, da un'altura a distanza, insieme ai draghi, osservano le truppe allineate, pronte alla battaglia. Dall'oscurità vediamo emergere qualcuno a cavallo, è la Donna Rossa. Ci aspettavamo il suo ritorno ma non sapevamo quando sarebbe avvenuto. Prima ci annuncia tramite Davos che morirà prima dell'alba. E poi si avvicina ai Dothraki, in prima linea nell'armata dei vivi, e pronunciando una preghiera al Signore della Luce, fa sì che le loro armi si infuochino. Ci chiediamo se sia questo l'asso nella manica che ci consentirà di sconfiggere gli estrani. Però no, non può essere così semplice. E infatti i Dothraki, valorosi e coraggiosi guerrieri, si lanciano contro l'armata dei morti, ma poco possono e periscono uno dopo l'altro. A quel punto si entra subito nel vivo della battaglia, con delle scene forti, intense e realistiche. Se non consideriamo il fatto che l'esercito nemico sia composto da zombie. È molto faticoso seguire i passaggi, riconoscere i visi dei protagonisti. Non solo è tutto tremendamente buio e confuso, ma gli estrani hanno portato con loro una nebbia bianca e fredda che rende tutto ancora più imprescrutabile. Ben presto i vari comandanti, Brienne, Verme Grigio, Lyanna Mormont, tutti gli altri, sono costretti ad ordinare e dibattere la ritirata. Poco dopo scopriamo in realtà che il loro scopo è quello di attirare i White Walker verso le trincee, che in teoria dovrebbero essere incendiate dai draghi, ma a causa della nebbia, Daenerys non riesce a vedere il segnale di Davos. Inoltre è troppo freddo e le frecce infuocate, lanciate dalle mura, non riescono ad accendere la legna. Il piano sembrerebbe pronto a fallire quando capiamo che Verme Grigio ha avuto un guizzo di genio. Serra ai ranghi dei suoi immacolati, che creano una sorta di testugine per proteggere la donna rossa, che riesce a raggiungere la trincea e ad accenderla con i suoi poteri. Per la seconda volta ci ritroviamo a pensare che sia fatta, che abbia vinto, che allora avevamo ragione a pensare che fosse Melisandre l'arma segreta. E invece gli estrani, dopo un primo momento di smarrimento, trovano il modo di eludere l'ostacolo. Alcuni di loro si buttano sul fuoco uno sull'altro e così riescono a creare un corridoio tra le fiamme. A questo punto la scena si sposta al castello, con i morti che ad uno ad uno si arrampicano sulle mura. I nostri paladini li contengono per un po', ma sono troppi. E in poco tempo Winterfell è invasa. Una cosa che mi è piaciuta molto è sicuramente la morte da eroina della piccola grande Leanna Mormont, che con un coraggio senza eguali affronta un gigante estraneo e, poco prima di essere schiacciata dalla manona di questi, riesce a pugnalarlo nell'occhio uccidendolo. Arya diviene la protagonista di una serie di scene, il che ci fa subito temere che sia destinata a perire ben presto. Rimangono tutti a bocca aperta nel vederla combattere. Sembra danzare tra i nemici che cadono uno dopo l'altro sotto i movimenti fluidi e leggiadri della sua lancia. Mentre le combatte instancabilmente, al contrario il Mastino è completamente bloccato dallo shock per ciò a cui ha assistito, e soprattutto per le fiamme, e non reagisce ai continui richiami di Beric Dondarrion. Solo nel momento in cui vede Arya, la sua nemici per tanto tempo, che è in pericolo, si risveglia dallo stato di Trance in cui si trovava e si lancia a proteggerla. Inizia un inseguimento tra i corridoi del castello. Arya, Beric e il Mastino scappano dai morti viventi che li rincorrono, riescono a salvarsi grazie al sacrificio di Dondarrion, e si rifugiano in una sala dove trovano Melisandre. Chi afferma che Beric era stato riportato in vita dal Signore della Luce per uno scopo, e quello scopo è stato raggiunto. Doveva salvare Arya. Da un dialogo brevissimo tra le due donne, cogliamo un indizio. La donna rossa aveva predetto alla Stark che si sarebbero rincontrate, e che lei avrebbe chiuso molti occhi, marroni, azzurri e verdi. Se ricordate lei aveva fatto questa previsione nella terza stagione. Adesso ha tutto un nuovo significato. La battaglia però non si combatte solo in terra, ma anche in cielo, dove ci sono Drogon e Regal guidati da Daenerys e Jon contro Viserion e il re della notte. A questo punto, innanzitutto, ci risulta chiaro come sia stato speso almeno metà dell'intero budget della stagione. Subito vediamo che il re della notte cade dal suo drago di ghiaccio, e si ritrova da solo indifeso. Finalmente riconosciamo lo sguardo della madre dei draghi, e sussultiamo quando le sentiamo pronunciare Dracarys. La nostra felicità dura solo qualche istante, perché lo scuro signore della notte esce in colume dalle fiamme. Lui non muore. Sono tante le domande che ci poniamo a questo punto, tentando di riordinare le decine di teorie che negli anni abbiamo sentito. Ma non c'è tempo di interrogarci, perché vediamo Jon che si dirige verso il re della notte per ucciderlo. A questo punto avviene la scena che tutti noi sapevamo sarebbe accaduta, cioè la lotta tra Jon e il re della notte, che dovrebbe essere epica. Però il Night King alza le braccia e risveglia tutti coloro che prima erano nell'armata dei vivi. Dothraki, immacolati, soldati di grande inverno, persino Ed e Lianna Mormont. Quel gesto iconico che tanto odiamo riesce a far realizzare la preoccupazione che ci ha allarmato per tutta la settimana. Jon è circondato e penso subito che sia lui il primo a morire. Anzi, credo che lo pensavamo un po' tutti. Però poi alla fine Daenerys salva Jon, che corre subito per tentare di raggiungere Bran. Ma poi è la regina ad essere in pericolo, perché gli estranei si arrampicano sul drago e lei si ritrova a terra completamente vulnerabile. In suo salvataggio interviene l'impavido Jorah, che per il momento riesce a portarla al sicuro. Verso il termine della puntata tutta l'attenzione si concentra sul parco dei dei, dove Bran attende, immerso in una visione che non conosciamo. Con lui a difenderlo ci sono i soldati delle isole di ferro. Nell'ultima stagione abbiamo assistito alla redenzione di Theon, ma in questi ultimi minuti della terza puntata dell'ultima stagione che comprendiamo appieno il percorso di questo complesso personaggio, grazie alle parole di Bran, tutto ciò che hai fatto ti è condotto fin qui, dove appartieni, a casa. Sotto le frecce degli uomini di ferro, gli estranei cadono uno a uno, fino a quando non arriva tutta la corte celeste, re della notte e i suoi cavalieri dai capelli d'argento. Bran si risveglia dalla sua visione e si rivolge a Theon, ringraziandolo e dicendogli che è un bravo uomo. Lui non ha bisogno di rispondere, i suoi occhi dicono già tutto. Le sue lacrime trattenute a stento sono quelle di chi è grato di aver ricevuto finalmente il perdono e di chissà che sta per compiere il sacrificio più estremo. La sua corsa disperata e vana verso il re della notte è il gesto definitivo che porta a complimento la parabola di Theon Greyjoy. In quell'esatto momento Daenerys e Jorah sono circondati dai strani. Jon si trova di fronte a Visenion che sta per ucciderlo con il suo sputo di ghiaccio. Tutti gli altri, Brienne, Jaime e Tormund, sono spalle al muro assaliti dai morti che tra non molto riusciranno ad avere la meglio. Nelle cripte Sansa e Tyrion, uniti da un affetto sorprendentemente sincero, sanno di essere spacciati ma comunque tentano il tutto per tutto per salvare la gente del Nord. Sono tutti consapevoli che è finita. L'armata dei morti sta inesorabilmente vincendo e il loro re è ormai vicinissimo a prendere Bran e quindi a compiere il suo obiettivo finale. Ma è proprio in quel momento, nel momento in cui tutti hanno perso le speranze, che arriva Aria e, con un colpo repentino, silenzioso e inaspettato, con la daga famigerata che diede inizio a tutto quanto, quella stessa daga che Bran aveva consegnato alla sorella poco tempo prima, mette fine all'incubo glaciale e oscuro dei morti contro i vivi. Non appena il re della notte viene abbattuto, come era prevedibile, tutti i White Walker perdono ciò che li animava e cadono uno dopo l'altro, lasciando i nostri protagonisti increduli e a bocca aperta, come tutti noi. Allora ragazzi, iniziamo con rendere omaggio alla famiglia Mormont, sia a Lianna che a Ser Jorah. La prima ha mostrato di avere molto più coraggio di tanti uomini, uccidendo letteralmente un gigante per poi morire con onore. Il secondo ha portato a compimento il suo arco narrativo, morendo per difendere la sua amata Daenerys. Però non gliel'ha mai data, vabbè. Tra gli altri morti sicuramente c'era un filo rosso tra Don Daryon e Melisandre, entrambi morti dopo aver portato a compimento il volere del Signore della Luce. Quest'ultima, dopo essere stata a lungo la più odiata, si regala un ultimo episodio da miglior personaggio, salvando e aiutando in tutti i modi gli eserciti del Nord. In Game of Thrones nulla accade per caso, così come la brillantezza dei dialoghi che non si perde neppure in una puntata segnata dalla morte e dal terrore. Quello tra Melisandre e Arya è il più grosso spoiler che tutti avremmo dovuto aspettarci. Cioè chiuderei occhi marroni, occhi verdi, occhi azzurri. Per non parlare di quell'altro, che è un cliché sempre di moda, cosa diciamo a Dio della Morte? Non oggi. Arya Stark li ha chiusi tutti. Aspettavamo il principio che fu promesso, aspettavamo il duello tra Jon e il re della notte, ma alla fine è lei che ha salvato tutti, proprio quando l'eterna notte era ad un passo. Una sequenza spettacolare, anche per il clamoroso twist con la stessa identica mossa usata contro Brienne durante gli allenamenti nella stagione 7. Soprattutto notiamo come Bran sia stato il personaggio decisivo nel corso della puntata, capace di guidare e aiutare tutti verso l'unico finale che aveva previsto da molto tempo. Il corvo con tre occhi, quasi in modalità Doctor Strange, aveva consegnato ad Arya Stark la daga in acciaio di Valeria che poi le sarebbe servita per salvare l'umanità. Inutile descrivere la liberazione e la gioia, mentre il re della notte e tutti gli estranei andavano in mille pezzi, perché questa battaglia l'abbiamo davvero vissuta in ogni suo attimo grazie allo straordinario lavoro tecnico. La morte di Fionn era quella più scontata in assoluto, dato che decide di morire da Stark trovando finalmente un posto nel mondo. Avevamo tanto paura per Brienne e Jaime, Jon, Daenerys, ma nessuno dei grandi Big è veramente morto. Ieri della notte nel giardino degli Dei di Grande Inverno ha fatto la stessa fine di Ned Stark, l'uomo che molti vedevano favorito nella prima stagione e morto subito e improvvisamente. Game of Thrones alla fine è questo, una continua sorpresa. Eowyn, a sorpresa, distrusse lo stregone di Agmar nel Signore degli Anelli, probabilmente era destino che una donna piantasse una daga nel corpo del re della notte. Un ennesimo splendido parallelismo con la saga che ha ispirato Game of Thrones per ammissione del suo stesso autore. In molti sorceranno la bocca perché gli estrani sono scomparsi troppo rapidamente, lasciando troppe domande senza risposta. E in effetti è così. Staremo a vedere se effettivamente tutto ciò è giunto veramente alla fine, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Quel che è certo ora, Jon e Daenerys potranno concentrarsi sull'ultima battaglia contro Cersei per il trono di spade, che con ogni probabilità divideranno insieme. La profezia indicava come scontata la morte della madre dei draghi, ma sembra che la serie sia andata su questo aspetto in una direzione diversa rispetto ai testi di George Martin. La realtà è che il bagno di sangue che c'era stato promesso non c'è stato, ora bisognerà vedere come evolveranno le cose, perché in ogni caso al gioco del trono o si vince o si muore. Dopo la vittoria della grande guerra, siamo pronti per affrontare l'ultima. Ok ragazzi, spero che questo riassunto vi abbia fatto piacere. Io queste informazioni le ho ricapitate attraverso vari siti di internet. Io spero che questo video vi possa aver fatto piacere. Mettete un like mi piace se così fosse, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!